Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a me. Eh sì, 42. Oh allora, siamo sulle conigliette a Como, adesso andiamo sul lungo lago. Ok, siamo arrivati sul lungo lago di Como, adesso facciamo un pezzo. Quasi fino alla fine del lungo lago per coribri indici. E poi saliamo su alla torsia dell'uomo. Saffa, 34 gradi. E' vero, sui posti c'è l'albero, si scopre, panchino di qui. Ok, adesso non siamo più a fianco all'albero, ma siamo in questa maniera ciclabile. Il monce si avvicina sempre di più. Ok, siamo cominciati a salire, adesso saranno solo 5-6 chilometri in salita, cosa del genere. Ok, come vediamo, stiamo cominciando a salire. Tutto asfalto, al sole, caldo da madonna. Ok, questo è un muro. Un muro, eh. Maria. Doviamo andare in turno. Sempre duro. Percà miseria. Di strada le mi ha fatte, però. Non siamo neanche a metà, però. Ok, un po' di boschetto. Un po' di aria fresca. E adesso ho fatto tutto in... al sole. Adesso c'è qualche imbreggiatura qua e là. Ok. Paola. Mi sono fatto guanti, casco e se è more, fa poco caldo. Poi, quando torno giù, faccio la discesa, lo rimetto. Ok. Adesso c'è questo sentiero qui. Passoso. Tendenza. Tosta. Mi è tosta. Proprio molto più dei miei limiti. Però dai, proviamo. Dobbiamo arrivare in cima a tutti i posti. Però è veramente tosta. un po' d'ombra. Finalmente, almeno meno l'ombra. Porca miseria. Allucinante, ragazzi. e che cos'è? E qui abbiamo problemi. Eh, porca miseria. non si. Non si. Non si. Ma no. Non ma. Non ma. Non ma. Non certo, ma stiamo combattendo. Ah, vedi? Eh, sono arrivato io. Una delle due due sono salvata. ma no dai un po' qua non ce l'ho qua andrà via però c'è se a pensare che ho fatto tutto sto dislivello in così pochi chilometri ora capisco perchè sono veramente morto morto eh si vado morto perchè comunque l'ultimo pezzo tutto a piedi perchè sono tutti gradini e tu già arrivi su che sei a pezzi e devi farti tutta spinta ogni spalla alla bici quelle bike in spalla non me la metto di sicuro e pesa quasi come me e quindi me la sono fatta spinta anche perchè io a questa altitudine non potrei neanche esserci infatti già comincio a avere qualche problemino di pressione alle orecchie cioè all'orecchio però mamma mia poi mi ero detto no? ho detto vabbè se dopo ce la faccio vado sulla non mi ricordo come cambronate ecco ma neanche Puket no no va bene così credo che ci ho dato abbastanza eh bel posto bello 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 allora adesso scendiamo la prima parte e prendo la dopo la scelta dopo la scelta ok ora scendiamo lasciamo una bella vista piccata piccata ora andiamo subendo l'ago e andiamo dall'altra parte fiocchio qua pure in discesa è difficile da fare sti gradiamo porca trota che panorama è brutto perchè devo guardare la strada qui e mi viene da guardare però di là qua andiamo qua andiamo ciò più niente quasi volo quasi ok ah l'arretta fresca ah l'arretta fresca non Allora, appena ho incrociato un ragazzo non stavo registrando, stava salendo con la muscolare, gli ho fatto i miei complimenti, cioè c'è poco da fare, è veramente... Io non lo rifarei con l'elettrica, questo stava salendo una muscolare, quindi, grande, cazzo da dire, grande. Non finisce più sta discesa, è mezz'ora che scendo, è avvicinante, mai fatto una descenza così lunga. Cini, cini, 1,2,2,3,5, è lunga su. Ti accoppi tranne lo sfigato là dietro, come ti capisco, Cini? Che cos'è? Diagna ovunque. il battello è nero bene ho parlato il sabato scorso ma qui cosa stiamo facendo? c'è il buco scoprire tutto però dai vediamo un po' dove c'è il carico oltre a tutta stafi che bella della parola ma più tranquilla ancora non capito dove siamo saliti mi ero prefissato qua da venire non capito 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 la salita la salita alla croce dell'uomo è stata veramente un parto però però bello il famorama della madonna lago di lago di tom è sempre bello sempre pieno così va pieno niente ci vediamo al prossimo video credo mercoledì tutto va bene e andremo a fare qualcosa di diverso adesso vedo ci penso bene comunque mercoledì mi piace se non l'avete messo iscrivetevi e viva la fi alla prossima non capito